Una collettiva d'arte è stata inaugurata giovedì 8 agosto nei locali di Cartoliotta, in via Diego D'Amico a Bagheria. L'azienda, che offre una vasta gamma di articoli da regalo prodotti per la scuola e l'ufficio, promuove al contempo iniziative culturali come questa, che rimarrà visitabile per tutto il mese di agosto, dalle ore 9 alle 13 e dalle 16 e 30 alle 20. Siamo orgogliosi di poter mettere il nostro spazio anche per altre situazioni come altri casi. In questo caso i ragazzi veramente, secondo me, meritano questo tipo di mettere in moto queste loro energie praticamente importanti. Concetta, sicuramente figlia d'arte, figlia di un grande amminico, non è un caso che Renato diceva che era uno dei più bravi come pennellata. Tommaso, un ragazzo emergente doveva affrontare anche del moderno, appunto il fatto che collabora con dei nomi importanti, dal Fiasconaro, dal Natale Giunta, Dolce Gabbana, significativamente che apre una modernità a questo stile che veramente si è aperto, si è aperto nel mondo questo grande stile della nostra sicilianità. Si tratta del secondo evento dedicato a questi due giovani artisti bagheresi. Ci sono lavori nuovi e lavori fatti da qualche anno fa. Alcuni, la maggior parte, sono tratti dall'Orlando Furioso, dall'illustrazione dell'Orlando Furioso. Come poi vedremo la stolfo che rapisce la damigella, il falconiere, che per quanto sia una figura un po' così descritta in maniera molto veloce nell'Orlando Furioso, è stata ritratta e c'è un'illustrazione bellissima che mio padre ha fatto suo e ha riprodotto in diversi carretti, nelle sfonde posteriore dei carretti. Poi il San Giorgio, il San Giorgio è una figura che troviamo sempre, quasi sempre nel carretto perché rappresenta il protettore nei lunghi viaggi ed era per lo più intagliato nella parte centrale dell'asse che teneva poi le ruote. Nella bottega di mio padre e la bottega dei Ducato erano 38, loro li definivano cicli della pittura del carretto, 38 le tematiche che loro affrontavano, appunto c'era l'Antico Testamento, le opere liriche, le scene di costume, i personaggi illustri, la Divina Commedia, i Promessi Sposi, insomma loro cercavano sempre di proporre cose nuove per rendere il carretto un'opera unica, ogni carretto un'opera unica. Io ho un progetto approvato dalle scuole del Cirocian, dove praticamente si può riprodurre un carretto intero, in ogni minima parte, dalle ruote, anche all'intaglio, al ferro battuto, tutto pronto. Un modo di dipingere che io ho intrapreso già da più di vent'anni, quindi ho continuato con la pittura siciliana, che è la nostra tradizione, la nostra cultura, ho cercato di portare proprio su tavole, su diversi oggetti, quindi quelli che sono i nostri colori, la nostra terra, la nostra Sicilia, facendo entrare anche nelle case, come vedete, attraverso l'arredamento, quello che è la nostra cultura e la pittura siciliana, del vero carretto proprio che abbiamo qui da noi. In questo modo io ho già, avevo iniziato tra l'altro, a dipingere anche qualcosa, che sono stato contattato da una grande azienda, Doccia Cabana, diciamo attraverso i figoliferi, potete vedere qualcosa. Poi ho eseguito anche il punto vendita, che è una figitoria d'arte di Natale, dello CEF Natale Giunta, che si trova a Palermo, e quindi ho continuato, e si continua sempre con l'evoluzione della nostra pittura, del carretto, quindi portandola avanti. Un modo comunque anche per fare conoscere l'arte fuori dai nostri confini regionali? Certamente, il punto è proprio questo, quello di portare fuori dalla Sicilia il nostro territorio, la nostra cultura, fare vedere che in questa terra ci offre tanto come colore, come cultura, quello che viene simboleggiato dal carretto siciliano. Presenti al Vernissage, numerose personalità del mondo della cultura e professionale della città, tra questi il maestro Carlo Puleo. Questi due pittori, io li definisco, una è la continuità, l'altro è la speranza, cioè la speranza che sia aggiunto un pittore, diciamo, a questo genere di pittura, che molti chiamano pittura del carretto, ed è, diciamo, non adeguato, perché è pittura popolare, perché questa pittura esisteva ancora prima del carretto, nel senso, cioè il carretto ha mille anni, forse duemila, però la tradizione di dipingere i carretti risale a meno di 150 anni fa. Prima questi pittori dipingevano le carrozze o dipingevano le icone, diciamo, perciò è una pittura molto più antica, ora l'attribuiamo al carretto ed è in maniera errada. Il rapporto con i fratelli Ducati è stato veramente molto significativo nella sua vita? Come no? Io ho conosciuto a tutti e quattro i fratelli Ducati che si dedicavano alla pittura del carretto, ma io sto parlando dei primi anni 50, quando ancora c'erano le commettenze. Poi man mano le commettenze sono venute meno e i fratelli Ducati, alcuni sono emigrati, alcuni si sono dedicati ad altri. Poi praticamente in età avanzata, quando erano pensionati, hanno ripreso di nuovo la vecchia arte della pittura e ce l'hanno tramandata fino a noi. Comunque, la pittura, chiamiamola del carretto, non è una prerogativa bagherese. In tutta la Sicilia si fa questa pittura, solo che a Bagheria ha trovato eccellenti artisti. In tutta la Sicilia